Musica Continua l'ondata di caldo, oggi nella marca la temperatura più alta del Veneto, interventi del Suem per Malori, intanto in montagna la marmolata raggiunge i 14 gradi, oltre 3.300 metri più alta del giorno del crollo del ghiacciaio. In questi giorni di sbarchi arrivi di migranti anche in Veneto, decine di nuovi richiedenti asilo all'ex Serena e all'ex Zanusso, ma le strutture reggono grazie alle partenze di altri profughi, resta l'incognita dalle prossime settimane. Intanto a gravità Vittorio Veneto lo stop all'accoglienza, abbiamo già dato, dice il primo cittadino Miatto, che come molti altri colleghi leghisti, ha i ferri corti con il governo sulla gestione dei migranti. Basta scaricare sui comuni, tuona Marcello Bano, da Noventa Padovana. Va a discutere la delibera regionale che dà i corsisti bocciati all'esame e la possibilità di una sessione di recupero per la mancanza di infermieri e operatori sociosanitari della RSA. Il PD all'attacco, irresponsabile. Nel Lago Morto, sul Fadalto, terzo giorno di ricerca del corpo del ventenne disperso, domani in azione i robot con i sonari. Intanto i bagnanti continuano a violare il divieto di balneazione. Il sindaco dice che è impossibile controllare sempre. Restano serie le condizioni dell'anziana, rimaste intossicate ieri sera nell'incendo della sua abitazione a Santa Lucia di Piave. I vicini sotto shock, speriamo che ce la faccia. La notte tra il 20 e il 21 agosto 2007, il massacro dei coniugi Pelliciardi che sconvolse la marca. Domani sera alle 18.30, la messa in memoria di Guido e Lucia nella chiesa del paese. Ricorrono oggi i 109 anni della morte di Papa Pio X. Moriese si prepara domani alla messa e alla processione in attesa della Pellegrinazio Corporis di ottobre, al quale sono attese migliaia di pellegrini. Spopola la moda del panettone sotto l'ombrellone. Siamo andati a scoprirlo con un pasticcere trevigiano tra i promotori della curiosità gastronomica. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso in primo piano dunque l'ondata di caldo che non si placa la terza di questa estate sul vento. L'hanno chiamata Heat Storm, la tempesta di caldo. L'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Oggi a Treviso la temperatura più alta rilevata dalle centraline Arpav con una percezione poi ovviamente del caldo anche superiore. 4 o 5 malori che hanno interessato l'intervento del suo M118 ma poi si guarda anche alla montagna e si guarda soprattutto alla marmolada con una temperatura che oggi a oltre 3.300 metri ha raggiunto un record di 14 gradi più alta della temperatura del giorno del terribile crollo del ghiacciaio. È Treviso, secondo i rilevamenti dell'Arpav, oggi la provincia più calda del Veneto. Il termometro, secondo la centralina del capoluogo, è salito fino a 35,5 gradi contro i 35,2 registrati a Vicenza, i 34,7 di Villa Franca di Verona, i 33 di Santa Pollinare a Rovigo, 32,8 a Legnaro nel Padovano e 32,7 a Cavallino Treporti sulla costa veneziana. La terza ondata di calore dell'estate non si sta facendo sentire solo in pianura Caldo opprimente anche in Pedemontana, ma sono i valori della montagna a rendere manifesta l'anomalia. Punta Appenia, marmolada, le 17.13 di questo pomeriggio la stazione Meteo rileva un nuovo record, 14 gradi. Il 3 luglio del 2022, quando il distacco del Seracco causò 11 vittime, secondo gli esperti anche la temperatura elevata contribuì al disastro, 10,4 gradi, ben al di sotto dunque dei 14 registrati oggi e dei 15 previsti per domani. Il suo M118 di Treviso mette in guardia da malori e dal pericoloso colpo di calore. C'è un disagio intenso, un bollino rosso, su tutta la regione Veneto ed è destinato per durare anche nei prossimi due o tre giorni. Con riferimento invece all'emissione di soccorso, per fortuna non si è assistito ad un incremento significativo. Ci sono stati 4 o 5 interventi di soccorso in tutta la provincia per malori che potrebbero essere riferiti al caldo. Principalmente persone anziane con una caratteristica dell'esposizione al caldo, alla temperatura, che può portare a criticità situazioni di patologie già preesistenti. Per le fasce a rischio bambini e anziani, la dottoressa Ferra Mosca raccomanda prudenza anche se dice anni di campagne di prevenzione e informazione stanno dando dei risultati. Rispetto agli anni precedenti i malori da caldo sono sicuramente diminuiti. Questo ci fa pensare che siano state acquisite delle informazioni importanti da parte degli utenti, delle persone, per tenersi in sicurezza. Tema caldo, metaforicamente parlando, è quello dei migranti. Nei giorni in cui gli arrivi di nuovi profughi dal Veneto hanno acceso i riflettori, soprattutto, lo sappiamo, sul Padovano. Non sono mancati arrivi consistenti anche negli hub della marca. Una ventina di nuovi richiedenti asilo all'ex Serena di Casiera, altri migranti anche all'ex Zanusso di Oderzo. Un sistema che però per adesso regge, grazie al turnover, con partenze di altri richiedenti asilo e ai posti lasciati liberi nelle strutture. Nel frattempo però cresce la preoccupazione dei residenti vicino alle strutture e sui social. In queste ore gli interrogativi dei cittadini in merito alle nuove presenze avvistate in questi giorni. Preoccupazione che cresce pensando agli ulteriori arrivi previsti nelle prossime ore e nei prossimi giorni in Veneto. E intanto con i migranti in arrivo si moltiplicano i no dei primi cittadini. Anche da Vittorio Veneto lo stop all'accoglienza dice ci abbiamo già dato il primo cittadino di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che come molti altri colleghi leghisti è i ferri corti con il governo sulla gestione dei profughi. Non è più un appello, è un out-out. Mittenti i sindaci del Carroccio, destinatario il governo di centrodestra a Traino Meloni. Il fenomeno deve esaurirsi, deve fermarsi, non è possibile, non è possibile avere flussi costanti di questo tipo che possono prolungarsi negli anni perché l'Africa è grande, i paesi di origine sono molto popolosi. Questo disordine deve finire. Da Vittorio Veneto a 90 a Padovana la musica non cambia, anzi. C'è qualcuno che si è assunto questa responsabilità, se ne assuma la responsabilità, faccia il suo lavoro, ha detto che avrebbe fatto i blocchi navali, i rispettimenti, incominci a fare qualcosa. Qua c'è una competenza che è governativa, se ne devono assumere le responsabilità chi è al governo, non scaricarle ogni volta sul sindacchetto. A Vittorio Veneto il primo cittadino è lapidario, con i circa 200 migranti già ospitati nella struttura del CEIS di Serravalle, è impossibile dare ulteriore apertura. Direi che la mia città ha già dato e che altri spazi non ne ho a disposizione. No agli hub e no all'accoglienza diffusa, chi non ha diritto di stare in Italia deve essere rimandato indietro. Questa è la linea ufficiale della Lega, gli fa Ecobano, che in questi giorni a Padova ha visto aprirsi le palestre per i primi dei tanti migranti in arrivo in Veneto. L'unica soluzione praticabile e continua è l'utilizzo dei centri di permanenza per i rimpatri, meglio si vicini a un aeroporto. E lo sfogo nei confronti del governo non finisce qui. Smetterla di scaricare le responsabilità ogni volta sul comune, minacciando i sindaci, dicendo beh, se non volete la colletta diffusa, sono 3-4 ogni mila abitanti, non è un problema, se no siamo costretti a fare le tendopoli. Ecco, questo lo trovo sbagliato, lo trovo ricatto inaccettabile. Ma che il tema inneschi un cortocircuito politico lo dimostra il fatto che il primo a parlare di rischio tendopoli senza accoglienza diffusa sia stato proprio il compagno di partito nel carroccio, Mario Conte. Mario, che è un grandissimo amico, ha fatto una proposta da un punto di vista amministrativo, piuttosto di un hub facciamo l'accoglienza diffusa. Per l'amore di Dio è una proposta, dopo di che c'è una linea politica di partito, c'è un segretario eletto Alberto Stefani, c'è un segretario federale Matteo Salvini, non è questa la linea della Lega, la linea della Lega è per i CPR. Resta nel caos di quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane un dato concreto, ben chiaro, al sindaco di Vittorio Veneto. Una cosa è accogliere, una cosa è allocare la gente senza servizi, alla disperazione, o le cose si fanno bene o se no è meglio non farle. Dal tema migranti a quello della sanità, nelle 351 casi di riposo del Veneto mancano 3500 operatori sociosanitari e oltre a 2000 infermieri. Per gestire quella che viene definita ormai un'emergenza, la giunta regionale del Veneto ha deciso di recuperare i corsisti già bocciati. In sostanza, anziché dover ripetere l'intero ciclo di lezioni come accadeva finora, gli OSS potranno partecipare a una sessione di recupero per rifare l'esame. In questo modo saranno accorciati almeno di un anno i tempi di reclutamento del personale. Ma è una decisione che lascia perplessa l'opposizione, il PD regionale in particolare. Questa giunta non sa più che pesci prendere. Attacca Anna Maria Bigon, consigliera regionale e vicepresidente della Commissione Sociosanitaria. È una decisione che lascia Adri poco perplessi, sicuramente non responsabile, dice Bigon, quella di inserire personale che non ha superato l'esame e manca ancora di preparazione e competenza. Tutto questo per evitare, conclude il PD, di fare l'unica cosa sensata, investire per rendere più appetibile questo tipo di mansioni. Da parte sua l'assessora alla sanità Lanzarin difende il provvedimento, sottolineando a Lansa che non va ad incidere sulla qualità del personale e sulla sua preparazione, ma dà solo una seconda possibilità che il giorno dell'esame, per una qualche ragione, non ce l'ha fatta. Il dibattito resta ovviamente aperto, ma è la cartina di tornasole di una emergenza davvero importante, quella della mancanza di personale nelle RSA, nelle case di riposo. Torniamo a Vittorio Veneto con la cronaca, con il terzo giorno di ricerca del ventenne Andrei Boicenco nelle acque del Lago Morto. In azione i sommozzatori dei Vigio del Fuoco, domani l'arrivo del robot con il Sonar. Intanto continua la balneazione dei turisti, nonostante ci sia un divieto di balneazione, l'amministrazione che ammette controlli impossibili. Poter avere personale sufficiente a presenziare continuamente di fronte a tutte queste situazioni, direi che è impossibile per tutti. Ci si richiama sempre il buon senso della gente, della capacità di discernere, di capire che tante situazioni sottengono un rischio che poi può risultare un pericolo e anche far succedere la disgrazia. La polizia locale di Vittorio Veneto è ben consapevole che tra i suoi compiti c'è anche multare chi va a nuotare dove è vietato fiumi e laghi, ma gli organici sono troppo scarni per controlli frequenti. È alla prudenza dei cittadini che il sindaco Antonio Miato si appella nel terzo giorno di ricerche al Lago Morto sul Fadalto del ventenne di Mestre Andrei Boicenco. È domenica, l'area è affollata malgrado l'annegamento del giovane russo. Sulla piccola spiaggia sono a centinaia. Coppie, famiglie, molti con bambini e cani sono in acqua. Non fosse per il via vai dei mezzi dei vigili del fuoco, sembrerebbe un fine settimana qualsiasi. In azione ci sono il nucleo regionale dei sommozzatori di Vicenza, due gommoni, la squadra di Vittorio Veneto e l'unità di comando locale di Treviso. Ricerche non facili, sul fondale la visibilità è scarsa intorno al metro. La svolta si attende dall'arrivo del dispositivo dotato di sistema sonar per localizzare il disperso scivolato dal materassino e mai più riemerso. Dispiagge che succedano di queste cose, specialmente perché collegate a momenti di relax, a momenti gioiosi e poi succede l'inevitabile. D'altro canto bisogna anche notare che manca un po' di prudenza da parte della gente. Che entra nell'acqua gelida senza rendersi conto delle possibili conseguenze, conclude il primo cittadino. Oltre che pensare a un qualche problema cardiocicolatorio alla base del negamento di 20enne, a me non viene tanto altro da pensare. Ancora la cronaca, sono, restano serie le condizioni dell'anziana rimasta intossicata ieri in serata nell'incendio della sua abitazione a Santa Lucia di Piave. A salvarla sono stati i vigili del fuoco. Ancora è terpia intensiva, speriamo che si riprenda presto. È una brava persona, merita tutto l'affetto da parte nostra. Amici e vicini alla spicciolata raggiungono l'abitazione di Giuseppe e Severina Vettorelli in via Foresto Ovest a Santa Lucia di Piave, dove il cortocircuito di un elettrodomestico in cucina ha causato un incendio al piano terra della bifamiliare. Il fumo nero, denso, è salito al primo piano dove si trovavano i due anziani coniugi. Mentre il marito di 74 anni è riuscito a uscire e a scendere le scale, la moglie di 75, bloccata all'interno dell'abitazione, è rimasta intossicata. Impossibile per lui rientrare. Sono stati i vigili del fuoco accorsi con autoscale e autobotte dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto a trarre in salvo la pensionata, trasportata poi in elisoccorso in ospedale a Treviso, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto si è recato anche il sindaco, Fiorenzo Fantinelle. La casa è stata dichiarata inagibile. In attesa di notizie sulle condizioni dell'anziana, il figlio e gli amici stanno cercando di ripulire le stanze annerite dal fumo. I vicini hanno portato la loro solidarietà. Conosco bene, fin da piccola. Sono delle persone fantastiche, molto bravi. Infatti non meritavano una cosa così. I due anziani stavano andando a dormire. Prima uno scoppio, poi il fumo e il panico. Il marito, solo leggermente intossicato, è stato visitato in ospedale a Conegliano e dimesso nella borgata e in paese. Tutti si augurano che ritorni a casa presto, anche la moglie. Sì, 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 speriamo bene proprio. Mi dispiace tanto, proprio parea. Tanto, tanto, ma anche parea, anche a casa, per tutto. Mi dispiace proprio con la mia casa che va così. La notte tra il 20 e il 21 di agosto del 2007, 16 anni fa, il massacro di Gorgo al Monticano che sconvolse la marca trevigiana, la barbara uccisione dei coniugi Pelliciardi da parte delle belve di Gorgo. Domani sera alle 18.30, come ogni anno, la messa in memoria di Guido e Lucia nella chiesa del paese. In modo per ricordare, per non dimenticare mai la tragedia che mutò il concetto stesso di percezione della sicurezza nella nostra provincia e non solo. Il figlio della coppia, Daniele Pelliciardi, ha sempre voluto tenere alta l'attenzione sul tema, nonostante il dolore per quella terribile vicenda. Lo ribadì anche nell'ultima intervista ai nostri microfoni, realizzata pochi mesi fa da Lina Paronetto, nei nostri studi. Diciamo che ricordare non sarebbe proprio un mio desiderio, sarebbe quello di dimenticare, non dei miei genitori ma del fatto. Però parlarne può essere un segno che bisogna continuare sempre a battere sul discorso sicurezza, bisogna essere sicuri di essere nelle proprie case, sicuri delle forze dell'ordine che ci siano e questo dà un senso di sicurezza alla gente. Ricordare, per quanto possa essere doloroso, lo aveva ribadito solo qualche mese fa ai nostri microfoni Daniele Pelliciardi e ora che il momento è arrivato la memoria ritorna. Una messa per Guido e Lucia, come ogni anno, per non dimenticare due genitori affettuosi e una coppia felice strappata alla vita nel modo più brutale. I simboli dell'evento che ha cambiato per sempre la percezione della sicurezza nella marca, che da allora a ogni violenta rapina in casa ha sempre riportato a galla le istantanee della notte dell'orrore. Orrore prima di tutto per lui Daniele, il figlio che quella notte trovò per primo i suoi genitori nella dependance di Villa Durante, custodi da appena cinque mesi e massacrate dalle belve in cerca dei codici di una cassaforte che i poveri coniugi non potevano conoscere. Lo shock di una comunità, le indagini, gli arresti, il processo. Non ha mai lasciato il paese Daniele, non vuole farlo, ma da allora le sue parole, oltre al ricordo di mamma e papà, sono sempre state improntate al desiderio di una giustizia diversa, di una giustizia migliore. Anche le forze dell'ordine lo prendono oggi, domani sono già fuori, c'è qualcosa che non va nelle leggi, bisogna cambiare quelle, bisogna far sì che anche invogliare le forze dell'ordine a fare il proprio dovere e a prendere la gente e ad essere sicuri, anche perché rischiano, prima di tutto rischiano la propria vita e rischiano anche il posto di lavoro e hanno famiglie da mantenere, questo è il punto. Per cui loro prima di agire ci devono pensare, loro non devono pensare di agire, devono agire senza pensare ma è dopo se succede questo, devono essere tranquilli, lavorare in tranquillità e questo deve esserci delle buone leggi. Un aggiornamento di cronaca prima di continuare con il telegiornale, un incidente avvenuto poco fa a Volpago del Montello in via Schiavonesca, un uomo in sella alla moto che ha perso il controllo delle due ruote ed è caduto sull'asfalto, sarebbe in gravi condizioni, pare che non ci sia, non sembra che ci siano altri veicoli coinvolti, è successo da poco, le notizie sono frammentarie ma l'uomo sembra in gravi condizioni, cercheremo di darvi ulteriori aggiornamenti, lo ripeto a Volpago del Montello in via Schiavonesca un motociclista in gravi condizioni. Ricorrono oggi i 109 anni della morte di Papa Pio X, allora a Riese si prepara domani, domani sera alla messa e alla processione in attesa della Peregrinatio Corporis di ottobre, a cui sono attese, lo sappiamo, migliaia di pellegrini. Oggi l'anniversario della morte è avvenuta 109 anni fa, domani l'attesa processione che costituirà l'avvio delle celebrazioni che porteranno all'atteso ritorno di San Pio X nella sua Riese, nella Peregrinatio Corporis, prevista tra il 6 e il 15 ottobre. Le spoglie del Santo percorreranno 545 chilometri nei 120 anni dalla salita al Soglio Pontificio. Il 21 è il giorno di San Pio X e qui a Riese ogni anno si svolge una funzione, una messa per ricordarlo, ma soprattutto la successiva processione che richiama ogni anno migliaia di fedeli non solo da queste zone e quest'anno assumerà un valore particolare appunto in questo anno così speciale. Sarà diciamo una sorta di apertura del sipario di questa lunga carrellata di eventi che si terranno da qui a fine anno. A questo anno speciale Comune di Riese, Fondazione Giuseppe Sarto e Diocesi di Treviso si preparano da tempo con eventi importanti, il restauro della casa natale di San Pio X, i lavori in via di conclusione al vicino museo e al sentiero che porta al Santuario delle Cendrole. A Ottobre a Riese si attendono migliaia di pellegrini. Per noi è un evento storico, è la prima volta che Pio X ritorna, ovviamente seppurda da morto a Riese Pio X dopo oltre 120 anni. Nel 2018 Giovanni XXIII ha visitato i suoi luoghi natali a Bergamo e sotto il monte e per noi è stato importante perché ha rappresentato un punto di riferimento organizzativo e logistico, per cui noi ci stiamo preparando da oltre tre anni a questo momento che si verificherà dal 6 al 15 ottobre, con l'arrivo il 6 ottobre a Treviso e il 7 ottobre il corpo arriverà a Riese dove rimarrà fino al 15 di ottobre. Riese e la marca stanno lavorando per farsi trovare pronti sotto tutti gli aspetti e anche quelli pratici. La parte di organizzazione logistica è la parte più impegnativa, ci stiamo confrontando da mesi anche con ovviamente la prefettura, la provincia e tutte le autorità competenti perché noi andremo a chiudere il centro storico di Riese al traffico veicolare, se no quello dei residenti e ovviamente dei mezzi di emergenza e creeremo un percorso pedonale che si dipana dalla chiesa in centro del paese arriverà fino al santuario delle centrole per circa un chilometro e sette di percorso e un afflusso così importante come ci aspettiamo ovviamente va gestito. Per il sindaco Guidolin che è anche presidente della fondazione Sarto, quel che si sta seminando ora porterà frutti anche in futuro perché Riese e i luoghi natali del pontefice trevigiano possano diventare meta dei pellegrini di tutto il mondo. Stiamo portando avanti un progetto per il quale ci aspettiamo che questo afflusso aumenti e continui negli anni successivi. Oltre 800 Vespisti provenienti da tutta Italia hanno fatto tappa oggi all'aeroporto di Strana a sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare in occasione del raduno nazionale del Vespa Club d'Italia e dell'undicesimo raduno del club di Resana, organizzatore dell'evento che con le oltre 700 Vespe e 74 club partecipanti ha segnato un record assoluto di presenza dalla prima edizione svolta 11 anni fa. Partiti da Resana i radunisti Vespisti hanno avuto la possibilità lungo il percorso di accedere all'interno dell'aeroporto di Strana per una tappa anche in nome della solidarietà in quanto parte del ricavato del raduno andrà a favore dell'AIRC nell'ambito del progetto un dono dal cielo che l'aeronautica militare ha deciso di adottare nell'anno del suo centenario a sostegno della ricerca contro il cancro. Questi dunque i Vespisti, il colpo d'occhio insomma dei tanti Vespisti appassionati di Vespa che si sono spostati da Resana per vedere i gioielli dell'aeroporto militare di Strana. Si può mangiare un dolce tipicamente natalizio sotto l'ombrellone, a quanto pare non è un'eresia il panettone sotto l'ombrellone. Ci lo spiega un chef trevigiano. È uno dei promotori del panettone sotto l'ombrellone Massimo Albanese, pasticcere trevigiano che insieme ad altri colleghi in tutta Italia sta lanciando la moda del dolce solitamente associato alle feste natalizie, questa volta gustato con i piedi tra la sabbia. Sono già quattro anni che noi lo proponiamo e la differenza da quello natalizio sta nell'inserto degli aromi che ci sono. Aromi che si adeguano alle esigenze della stagione. Noi per esempio quest'anno abbiamo proposto oltre a un classico che è la focaccia veneziana che è un prodotto puro, esclusivamente di pasta lievitata. Abbiamo il panettone anas e menta e qui ne abbiamo un esempio. Lo facciamo in versione da 500 grammi, quindi non è la forma classica del panettone ma usiamo questa forma a bauletto, a lingotto per facilitarne anche il taglio proprio sotto l'ombrellone. Ananas, frutti di bosco, gusti estivi e freschi che alliettano il tempo passato sulle rive del mare accompagnato talvolta da qualche pallina di gelato. È effettivamente un abbinamento che si sposa benissimo perché d'estate si predilige anche qualcosa di fresco da consumare e il soffice panettone con la cucchiaiata di gelato in abbinamento è proprio un connubio eccezionale, insomma straordinario. E i clienti chiaramente ce ne danno un feedback notevolmente soddisfatto. Idea quella del panettone estivo che piace sia italiani che stranieri. Diciamo che è un plebiscito polilaterale, nel senso che sia l'italiano che viene a far colazione e fa la degustazione perché noi proponiamo anche la degustazione del panettone con piccoli assaggi e questo fa sì che il cliente poi dopo sia interessato anche a fare la degustazione proprio della fetta di panettone con il gelato lì in loco oppure si prende il panettone e lo porta a casa insieme alla vaschetta di gelato e poi fa la degustazione a casa. Una tradizione italiana quella del panettone ma che all'estero non ha stagionalità. Ci sono dei colleghi francesi e spagnoli che lo propongono tutto l'anno e lo vendono tutto l'anno e questo è dovuto al fatto che non essendo un prodotto della tradizione gastronomica di quel paese ovviamente non viene considerato come un dolce da ricorrenza. Insomma l'esperienza da approvare la domenica di esodo e contro esodo per i vacanzieri d'agosto con inevitabili problemi di traffico e code anche se in 40 anni le cose sono decisamente cambiate grazie al miglioramento della rete di aria ma anche a una diversa gestione delle ferie più distribuite nel corso degli anni e dell'anno ma come eravamo nelle stati degli anni 80 e quindi come era il traffico, il contro esodo negli anni 80 in cui lo dicevamo la rete viaria era decisamente diversa ve lo raccontiamo come sempre con il nostro servizio della domenica con il nostro Lucio Zanato che ha ripescato un servizio storico di Antenna 3 questo è datato 1987 quindi 36 anni fa Dunque l'ultimo estenuante e faticoso rientro dal periodo vacanziero è già iniziato code lunghe 15 chilometri si sono formate nella tarda mattinata sull'autostrada Trieste-Venezia in uscita al casello in località favorita a Mestre l'incolonamento delle automobili che come potete vedere dalle immagini forma un biscione lungo 15 chilometri e che ha superato abbondantemente l'uscita di Quarto Daltino è cominciato nelle prime ore della mattinata ed è andato aumentando con il passare delle ore a causa del consistente volume di traffico di vetture provenienti da località del Friuli-Venezia-Giulia e nonostante siano state aperte al casello di Mestre ben 11 uscite il traffico è sostenuto anche in direzione di Trieste e sull'autostrada A4 Serenissima tra Milano e Venezia e viceversa ma nonostante questa massiccia ondata di turisti pronti al rientro c'è ancora chi vuol godere sino in fondo di sole e mare anche se il cielo oggi un po' in tutta la nostra regione è coperto le principali spiagge del litorale Adriatico Veneto sono ancora molto affollate a Bibione, Eraclea, Caorle, Iesolo le presenze di Tintarellari si contano ancora migliaia ma non vanno dimenticate le località montane dove i villeggianti e il caso di Cortina soggiornano forse anche più a lungo del tradizionale periodo di vacanza una ragione sicuramente c'è proprio a Cortina ma anche nell'altopiano di Asiago e nella Marmolada si può sciare un frutto di stagione appetitoso per molti appassionati sulle strade che conducono nel Cadore e nelle altre vallate bellunesi la polizia stradale ha segnalato ieri traffico superiore al normale sia per chi rientra sia per chi invece intende acciuffare anche questo penultimo weekend di agosto per trascorrere ore serene ai monti o al mare riteniamo che il consiglio di massima prudenza non sia davvero superfluo vi do un aggiornamento di cronaca sempre sullo schianto l'abbiamo detto prima a Volpago del Montello vediamo anche un'immagine dei carabinieri parliamo di un centavolo che ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra resta in gravi condizioni non sono coinvolti altri veicoli adesso andiamo a Feltre per parlare del ritorno del Giro delle Mura il Giro delle Mura città di Feltre quest'anno si svolgerà il 26 agosto mentre il 25 avrà luogo il Feltre Urban Trail con sviluppo ad anello in ambiente cittadino attraverso luoghi storici tra i più suggestivi della città il Giro delle Mura è una corsa podistica internazionale su strada in notturna che si corre all'interno delle mura cittadine e che richiama atleti provenienti da 15 diverse nazioni tra cui quest'anno due africani la cui presenza è stata fortemente voluta dagli organizzatori quest'idea nasce da un confronto diretto con un missionario combognano che abbiamo ospitato l'anno scorso durante un service per far conoscere un po' di più alle nostre comunità locali le tematiche africane questo missionario lavora da 43 anni in Africa si chiama Renato Chisito Cesana è stato lui a raccontarci questa storia di riscatto che appunto riguarda questi due ragazzi Joël e Josefat non ci è sembrato vero quando ci siamo incontrati qui a Feltre con questo missionario abbiamo fatto un incontro con la dirigenza del Giro delle Mura e da subito ci è venuta voglia di poterli avere qui a Feltre poterli ospitare e poterli fare correre in una grande manifestazione che gli permetterà sicuramente di fare una grande esperienza una storia, la loro, che ricorda quella di Bebe Bichila perché sono ragazzi che a Feltre correranno forse per la prima volta con un ausilio, qui non sono abituati, le scarpe il ruolo del Giro delle Mura è proprio quello di gestire e organizzare tutta la parte atletica dei ragazzi quindi vestirli, le scarpe, portarli a prendere delle scarpe perché questi corrono scalzi e quindi qui nel Pave Feltrino è opportuno dargli un buon paio di scarpe di passport quindi dargli gli alloggi il vitto è cercare di coinvolgere in qualche gruppo di meners dove dargli uno sbocco al loro voglia di correre quindi non correre solo giù in Kenya tra loro ma la loro vittoria sarà proprio quella di trovare qualcuno che in Kenya poi quando rientrano in Kenya li portano in qualche campus dove ci sono allenatori italiani e dargli la possibilità di correre quindi di trovare una vittoria per la vita diciamo Per Feltrino è un evento, uno spettacolo, un appuntamento che da oltre 20 anni anima le serate di agosto in città arrivo e partenza saranno in Largo Castaldi ed anche quest'anno ritornano la gara classica la Seven Laps, il miglio dei comuni riservato ai giovanissimi la gara amatori e il campionato europeo dei Vigili del Fuoco è tutto per questa edizione vi lascio alle previsioni del tempo grazie per averci seguito e arrivederci Benvenuti al meteo previsioni per lunedì 21 agosto sul Veneto tempo in prevalenza soleggiato salvo possibili annuvolamenti sui rilievi a partire dal tardo pomeriggio non sono attese precipitazioni temperature minime tra i 20 e i 25 gradi massime tra i 33 e i 37 gradi sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con prevalenza di cielo sereno precipitazioni assenti sulla costa soffierà Borino temperature oltre le medie stagionali con minime tra i 22 e i 25 gradi massime comprese tra i 33 e i 35 gradi sul Trentino Alto Adige è previsto tempo molto soleggiato con assenza di nubi non sono attese precipitazioni temperature minime intorno ai 21 gradi massime comprese tra i 35 e i 38 gradi dal meteo è tutto arrivederci portaci gli oggetti i mobili i vestiti che non usi più da noi guadagni ex nuovo mercatino dell'usato aperto 7 giorni su 7 via Vicenza 23 vede lago all'usato all'usato Grazie a tutti.